Sì, c'era una spiaggia, c'era della gente. Mi sono lanciato e è atterrata di schiena piena proprio. Mi son fatto investire della po- Oh, oh, mica si è fermata! Allora ti spari! Allora ti spari! Eh, c'è! Da, sei cercata! Vado a vedere se trovo il tuo cadavere. Oddio, ma quanti soldi abbiamo speso? A fare tutte queste cose. 2000 dollari. Non so se c'è il tuo cadavere. Oh, che schifo fai! Ti vuoi fare il mio cadavere? No, 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 no! Sei caduto nelle rapide? No, sono... Morto? Ma basta! Perché sei morto? Nelle rapide. Come hai fatto? Ma non lo so, vada a letto. Stai fermo che arrivo! Dove sei? Sono qua dietro, stai fermo! E non so quanta gente ci sta, eh. Eh, perché è già salita il marzo 20. Godo! Oddio! No! Sì, ma è passato tra... Nelle pale! Pedala! Pedala! Sì, ma tu hai fatto la patente per gli aerei. Sì. Armi abilitate! No, io sono primo! Sono esploso! Mi hanno preso! Sono esploso! Sì! Sì, ma... No! Ho giusto parte! Ho giusto come parte! No! 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 Perché sei morto? Io la sarei idiota a te! No! in Puista